Siamo stamattina con l'avvocato Michele Capano, già tesoriere di radicali italiani, per discutere della riforma di proposta di legge del Mastro Giovanni. Da dove nasce l'esigenza di riformare il TSO? Noi come radicali siamo stati protagonisti della stagione che alla fine degli anni 70 ha riformato l'approccio pubblico nei confronti del disagio psichico attraverso una raccolta firme in calcio ad un referendum e che ha portato alla cosiddetta legge basaglia che in realtà il Parlamento promulgò anche e soprattutto per evitare una celebrazione referendaria che ci sarebbe stata di lì a poco. A 40 anni di distanza pensiamo, come Marco Pannella pensava intervenendo nella Commissione Affari Sociali alla fine degli anni 70 quando il testo fu elaborato, che questa procedura necessiti di una profonda revisione. In primo luogo per una ragione di costituzionalità, di una procedura che per quanto limiti la libertà della persona perché sappiamo che il trattamento sanitario è obbligatorio, vuol dire per sette giorni sulla base di una proposta di un medico controfirmata da un altro medico o una successiva ordinanza del sindaco, la possibilità di un ricovero coatto in una struttura psichiatrica di norma ai cosiddetti SPDC cioè i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che sono i reparti psichiatrici ospedalieri di una persona che si ritiene debba curarsi e che tuttavia non ha la volontà di curarsi. Procedura che può essere ripetuta poi per altri sette giorni con le stesse modalità e in realtà molto spesso viene ripetuta per molte settimane. Ora, questa forma di limitazione della libertà personale adonta di un articolo della nostra Costituzione l'articolo 13 che dice che ogni ingerenza pubblica nei confronti della libertà della persona deve comunque passare a tra il suo il vaglio di un magistrato è invece affidato non alla proposta, ciò che è sacrosanto ma alla decisione di un'autorità che il magistrato non è senza che poi in questa procedura vi sia la presenza del diritto di difesa che invece ancora una volta costituzionalmente per l'articolo 24 deve accompagnare la limitazione della libertà personale. Il risultato è che oggi i circa 11.000 trattamenti sanitari obbligatori che avvengono in Italia, a nostro avviso, sono molti di più proprio per la facilità con cui questa procedura può essere applicata dovrebbero esserci e nel come del trattamento sanitario obbligatorio noi registriamo una serie di comportamenti che oggi portano qua e là dei processi relativi a quello che è accaduto nei reparti ospedalieri. Noi abbiamo chiamato questa legge Mastro Giovanni perché Mastro Giovanni è il maestro elementare che nel 2009 nel reparto psichiatrico di Vallo della Lucania in provincia di Salerno è entrato il 31 luglio a seguito di un trattamento sanitario obbligatorio vivo ne è uscito il 3 agosto cadavere dopo 87 ore di ininterrotta contenzione cioè è entrato mentre riposava, è stato legato, non è stato più sciolto è morto, dice una sentenza di corte d'appello di Salerno adesso abbiamo la corte di Cassazione anche in relazione ai danni che sono stati derivati da questa contenzione ininterrotta quindi c'è qualcosa che non va questo progetto di riforma mira a voltare pagina rispetto alla concreta esecuzione nella fattispecie quindi la vostra proposta di legge Mastro Giovanni nei contenuti prima questione relativa all'avvio della procedura oggi il paziente che subisce il trattamento sanitario obbligatorio non ha diritto di sapere che cosa gli succede dove lo stanno portando perché quali possibilità di reazione ha rispetto a quello che accade noi introduciamo una cosa che è pazzesco che non esista già cioè la notifica ti faccio questo trattamento ti do come si fa nei confronti degli arrestati perché è una forma di violazione di libertà personale analoga all'arresto un foglio che in un linguaggio comprensibile ti dice tu per questa ragione vai nel reparto hai questa possibilità di reazione hai il secondo aspetto della proposta queste possibilità di comunicazione perché accade oggi che dal sequestro del cellulare addirittura è il caso anche di Mastro Giovanni alla inibizione dei familiari all'accesso nel reparto dove uno è ricoverato noi abbiamo una condizione di isolamento che è inaccettabile la proposta prevede l'impossibilità di limitare la comunicazione che anzi è un elemento terapeutico in condizioni di questo genere l'impossibilità di utilizzare strumenti nelle modalità che sono accadute rispetto a Mastro Giovanni in altri casi di contenzione l'accesso anche di strutture associative che possano svolgere un ruolo di controllo ma anche di ausilio nei confronti di situazioni che innanzitutto hanno bisogno di un approccio di tipo umano infine il coinvolgimento di una figura il garante nazionale dei diritti non soltanto dei detenuti ma di coloro i quali subiscono delle restrizioni della libertà personale quindi anche dei cittadini che sono sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio che quando la settimana comincia a diventare 2-3 deve necessariamente essere informato del fatto che c'è una situazione di limitazione che si protrae e che ha una possibilità di intervento di accesso anche nei reparti analoga a quella che conosciamo rispetto ai deputati ai senatori che hanno la possibilità di intervenire per visitare le carcere e quindi per monitorare anche le condizioni di vita dei detenuti è un tipo di verifica che occorre valorizzando noi pensiamo il ruolo del garante introdurre anche nei reparti di psichiatria dove persone sono in cura contro la loro volontà e le modalità attraverso cui questa cura si manifesta credo che sia interesse di tutti che possano essere verificate Sicuramente la conciliazione anche dei rapporti intrafamiliari che non devono essere assolutamente perduti e credo che questo sia l'approccio che anche una comunità scientifica debba essere coinvolto e allo stesso tempo quindi dare un proprio parere voi siete riusciti a mettervi in contatto con psichiatri piuttosto che con altri referenti della comunità scientifica come hanno reagito? Hanno reagito male noi abbiamo un atteggiamento di generale chiusura della comunità psichiatrica organizzata attenzione perché poi abbiamo una serie di individualità sulle quali anche facciamo leva perché questo viene ritenuta una indebita intrusione nei confronti di luoghi che loro sono abituati tra virgolette a gestire in proprio devo dire che questo non ci spaventa perché quando Franco Basaglia cominciò anche il suo cammino che ha portato poi alla chiusura dei manicomi e ha un diverso approccio nei confronti del disagio psichico rappresentava una sparuta minoranza all'interno della comunità psichiatrica che era quella che aveva sempre gestito diciamo così i manicomi ed era affezionato a quello come unica modalità di riferimento nei confronti di quella patologia ora questo passo ulteriore nei confronti della libertà del malato e di un approccio che sia non esclusivamente custodialistico farmacologico anche nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura allo stesso modo viene vissuto come una, ripeto, volontà di sindacare un luogo che si è abituati a gestire in proprio noi abbiamo avuto a luglio sul quotidiano Sanità un articolo a firma del presidente del vicepresidente del segretario della società psichiatrica italiana che è intervenuto in modo specifico nei confronti della proposta di legge radicale italiani per segnalare una presa di distanza soprattutto chiarendo che non c'è bisogno di un allargamento diciamo così delle tutele nell'ambito di una procedura che deve rimanere soltanto sanitaria e in cui parlare di diritti diciamo così è improprio noi pensiamo che improprio non sia continuiamo un dialogo che credo debba vivere pure di occasioni pubbliche che abbiamo costruito in parte e che continueremo a costruire nella idea nella idea che vale per la giustizia deve valere anche per la sanità i processi di riforma che riguardano casi di questo genere che poi interessano la vita di tutti i cittadini non debbano essere confinate in discussioni tra addetti ai lavori non è una cosa che possiamo fare decidere soltanto a chi se ne occupa dal punto di vista professionale tanto quanto la riforma della giustizia non è qualcosa che interessa e che quindi deve essere decisa solo dai magistrati è una cosa che interessa a tutti i cittadini che deve vivere nella valutazione nella discussione nella scelta dei cittadini ecco perché noi ci auguriamo che questa possa diventare una proposta di legge di iniziativa popolare ed ecco perché 40 anni fa quando decidemmo di intervenire anche come radicali sulla questione manicomiale scegliamo la strada della raccolta di firme referendaria questa è cosa di tutti e devono discutere e deciderne tutti a che punto siamo? siamo in una fase che è di messa a punto la proposta già ha un contenuto che è quello che anche ho illustrato dell'aspetto organizzativo che è naturalmente di cittadini che dicono io ci sono in strada per fare questo percorso che è finanziaria perché è di cittadini che dicono io do questo obbolo per consentire a questo percorso perché sappiamo che in Italia le procedure di coinvolgimento dei cittadini lo vedremo adesso rispetto anche alla raccolta firme delle forze che saranno impegnate alle prossime elezioni politiche vivono di una serie di enormi difficoltà sul fronte dell'autenticazione della certificazione quindi c'è uno sforzo anche finanziario e siamo nella fase che è deputata a costruire il comitato diciamo così che deve a partire dall'iniziativa dei radicali italiani assumersi la responsabilità in un anno il 2018 che sarà anche simbolico perché celebreremo i 40 anni dall'approvazione della legge Basaglia e quindi l'idea di fare un tagliando al funzionamento dei servizi psichiatrici è anche simbolicamente diciamo così rappresentata possa essere un anno di raccolta delle firme in calcio a questa proposta noi ringraziamo l'avvocato Michele Capano per il suo impegno e lo esortiamo a continuare lungo questa strada grazie a Miller